Ben ritrovati a una nuova puntata di 4 chiacchiere con. Oggi parleremo di Rivalolo Canavese e faremo un percorso attraverso il mandato dell'Aggiunta Rostagno, anzi dell'amministrazione Rostagno e ne parleremo proprio con il Sindaco. Alberto Rostagno, benvenuto. Grazie Magda e grazie ai telespettatori che ci ascoltano. Allora l'amministrazione Rostagno è subentrata dopo un commissariamento, cosa ha significato e cosa ha comportato per voi? Penso che il prendere in mano un'amministrazione dopo un commissariamento sia una cosa per fortuna non comune. Tante città, tanti comuni nel passato hanno avuto problemi di commissariamento, ma il commissariamento che ha avuto il Comune di Rivalolo è stato un commissariamento particolare, è stato un commissariamento perché il Consiglio Comunale è stato sospeso per sospetta infiltrazione mafiosa. Quindi al di là del fatto che per due anni ci sono stati tre commissari che hanno gestito l'amministrazione comunale, prima di questo passaggio c'è stato tutto un percorso per cui tutta la macchina burocratica, amministrativa ha subito una scossa, una scossa forte, uno shock perché quando improvvisamente sono arrivati questi ispettori a verificare l'andamento dell'amministrazione, tutto il personale, i funzionari ma anche tutti i dipendenti hanno veramente avuto dei giorni, dei momenti, delle settimane, dei mesi di grosse difficoltà. Pertanto quando noi siamo entrati in amministrazione dopo le elezioni del maggio 2014 abbiamo trovato un ambiente ancora scosso, un ambiente ancora scosso che aveva bisogno di essere rasserenato, di tranquillità e piano piano non è stato un percorso assolutamente facile, è stato un percorso complicato, difficile. Piano piano abbiamo cercato di ridare quella tranquillità, quella sicurezza a tutto l'ambiente, ai dipendenti, ai funzionari, a tutto l'entourage che lavora con il Comune e devo dire che dopo un periodo come dico difficile anche perché la procedura aveva messo in moto tutto un meccanismo, l'interdittivo antimafia perché tutte le procedure erano molto più complesse, più delicate, più complicate il rapporto con la prefettura. Devo dire che abbiamo messo un po' di tempo ma adesso abbiamo messo in sicurezza la città ma in modo particolare abbiamo creato un ambiente molto più sereno, molto più tranquillo dove si lavora bene e dove c'è la sensazione che il passato è passato e adesso si lavora guardando al presente ma in modo particolare guardando anche al futuro. Certo, una procedura burocratica molto più difficoltosa per riuscire a attuare ed è stato così fino a quando? Allora la procedura che ci ha coinvolto con l'interdittivo antimafia è stata così fino a due anni fa. Da due anni a questa parte possiamo lavorare in modo un pochino più snello. Certo, certo. Un baluardo che avete sempre portato avanti fin dal programma elettorale era quello di una città sostenibile e quindi con un occhio di attenzione all'ambiente, alla mobilità. Certo, era anche uno dei capisaldi della nostra campagna elettorale con i cittadini di quelli di far sì che la città di Rivarolo avesse una visione particolare, un'attenzione particolare che l'amministrazione avesse un'attenzione particolare a quello che è l'ambiente, l'aria, la salute, la buona qualità della vita dei cittadini. Abbiamo cercato anche di trovare delle soluzioni per quello che era uno dei problemi che in quel momento, nel 2013-2014, affliggeva un pochino una buona parte della città, erano tutti preoccupati per la famosa centrale biomassa perché in quel momento si era scoperto che questa che avrebbe dovuto essere una piccola centrale per alimentare il teleriscaldamento della città, invece era un grosso carrozzone che oltre a non produrre il teleriscaldamento creava qualche dubbio o forse qualche dubbio in più sull'effettiva utilizzazione di questa centrale biomassa. Abbiamo cercato di capire quali erano le possibili fonti di inquinamento, abbiamo cercato di interagire anche con la città metropolitana per ottenere qualche possibilità magari di revisione all'indomani del nostro insediamento, abbiamo capito quando sarebbe stato nel 2015 il rinnovo per l'autorizzazione. Abbiamo valutato, abbiamo fatto anche le nostre rimostranze per cercare di, se non, non dare l'autorizzazione ma dare un'autorizzazione con delle limitazioni. Purtroppo questo non è stato possibile perché il potere in questo caso era in capo della città metropolitana, la città metropolitana ha preso delle decisioni diverse dando quindi un'autorizzazione alla produzione di gas in atmosfera per altri 15 anni. Devo dire che però interagendo con l'ente superiore qualche risultato l'abbiamo ottenuto perché abbiamo ottenuto che alcune compensazioni venissero date, che venissero tolte dei rischi, venisse create delle condizioni per cui i cittadini anche se non al cento per cento ma si possono oggi sentire un pochino più tranquilli e far sì che questa centrale, grazie anche a una sinergia per cui i dati vengono trasmessi, i dati della centrale vengono trasmessi al Comune, il Comune li imposta e li mette sul sito. Quindi diciamo c'è una trasparenza maggiore che prima del nostro avvento in amministrazione non c'era. Quindi questa è stata la prima partenza per cercare di dare una certa attenzione alla qualità dell'ambiente, alla qualità dell'aria. Abbiamo poi, ci siamo poi resi conto naturalmente che la città aveva delle fonti di inquinamento anche grazie alla centralina dell'ARPA che sono state posizionate in tempi diversi, in posti diversi della nostra città. Ci siamo resi conto che Rivarolo aveva un inquinamento elevato dovuto al traffico, al traffico leggero e in modo particolare al traffico pesante. Inquinamento che abbiamo cercato di ridurre grazie al divieto che abbiamo messo in atto nei confronti dei mezzi pesanti. Divieto che è vero che ogni tanto qualche mezzo pesante, qualche autoarticolato cerca ugualmente e passa magari in città, però diciamo che per l'80% l'abbiamo risolto creando delle passaggi e delle vie alternative ai mezzi pesanti. Naturalmente non ci siamo limitati a questo, abbiamo fatto sì che, specialmente nell'ultimo periodo, nei primi tre anni, come ho detto prima, oltre alle difficoltà dal punto di vista borrocato abbiamo avuto anche qualche difficoltà dal punto di vista economico, non lo nego, e in questi ultimi anni e mezzo abbiamo creato dei passaggi ciclopedonali, abbiamo fatto in modo che messo in sicurezza i pedoni, specialmente nelle zone un pochino più a rischio per quanto riguarda i cittadini, specialmente i più piccoli cittadini, quindi i bambini che vanno a scuola, quindi l'accompagnamento, l'attraversamento di alcuni tratti pedonali, abbiamo tolto via quello che era la pericolosità degli attraversamenti pedonali dove c'era il porfido che rischiava, dove si rischiava di cadere. In modo particolare abbiamo fatto alcune zone ciclopedonali, quindi delle ciclabili, che oltre al nostro incentivare, noi speriamo che anche un pochino grazie al bike sharing che già tre anni fa avevamo me, avevamo così creato questo tipo di sistema collegato con i percorsi, con gli altri sistemi del bike sharing della città metropolitana. Speriamo di aver creato il presupposto per cui i cittadini, giovani ma anche meno giovani, si rendano conto che andare in bicicletta o anche camminare a piedi, a volte per breve tragitti, è molto meglio che prendere l'autovettura. Naturalmente è un percorso lento perché non si può arrivare a obbligare nessuno a fare nulla, però piano piano si può far capire che sicuramente anche per la propria salute muoversi senza usare il mezzo meccanico, senza usare l'automobile, è sicuramente un vantaggio per l'ambiente, un vantaggio per gli altri, ma anche un vantaggio per se stessi. Sì, non soltanto per la salvaguardia dell'ambiente, quindi per l'infinamento, ma per la salute stessa. La prevenzione in modo particolare. Ha nominato i bambini e un'altra cosa che è stata fatta è l'ultima azione della scuola elementare. È deciso la progettazione per l'ex scuola elementare. Sì, certo, il futuro delle città, il futuro della nostra città, la città di Rivarolo è naturalmente il futuro dei bambini, dei giovani, delle nuove generazioni, di coloro che cresceranno e utilizzeranno in futuro la nostra città. Noi, quando siamo entrati in amministrazione, il progetto della nuova scuola elementare, quella che poi abbiamo intitolato a Gibellini Vallauri, una signora che aveva lasciato un'importante eredità a favore della frazione argentera, che già i commissari prima di noi avevano utilizzato parte di quell'ascito per costruire la nuova scuola elementare. Noi abbiamo, oltre ad averla intitolata, portato a termine, e non è stato un lavoro facile quella scuola perché l'abbiamo presa, che era ancora, quando siamo entrati in amministrazione, era ancora un cantiere completamente da finire, penso, adesso non ricordo ma era poco più che metà il lavoro fatto, l'abbiamo concluso, abbiamo fatto nuovi vestimenti per tutti gli arredi, per tante cose, tante piccole modifiche che comunque abbiamo fatto ma che alla fine hanno comportato una spesa ulteriore al milione e mezzo che già avevano istanziato i commissari, una spesa non indifferente e abbiamo lavorato per concludere quell'iter e arrivare alla definizione e alla fine dei lavori. Abbiamo iniziato due anni e mezzo fa, abbiamo portato, iniziato con il primo anno, con tutte le scuole che sono state trasportate da Via Roma, la vecchia sede, alla nuova scuola Giblini-Vallauri, con direi grande soddisfazione da parte di tutti, dei bambini, dei genitori e dei docenti perché la scuola è funzionale, è moderna e abbiamo sistemato poi non subito ma negli anni seguenti, quindi abbiamo finito solamente un anno fa, gli spazi verdi che sono comunque tanti nella parte centrale ma anche nella parte laterale della scuola e abbiamo finito nell'estate scorsa un altro progetto che è quello di aver riqualificato, praticamente rifatto il blocco centrale della scuola media. La scuola media è formata in tre blocchi, tre blocchi che sono molto vecchi, hanno quasi 50 anni di vita e quindi avevano bisogno di una riqualificazione, di una messa a norma perché non erano più a norma. Ora il primo blocco è stato messo a posto, naturalmente col tempo ci saranno poi gli altri due blocchi da risistemare, ma comunque il blocco diciamo così più critico è stato riportato a nuova vita e quindi adesso abbiamo tra l'altro sostanziato alcuni dei denari per rifacimento del tetto della palestra, sempre della scuola della scuola media, quindi stiamo lavorando veramente per far sì che i nostri bambini vivino in un ambiente sicuro, sereno, moderno. Abbiamo recentemente ritinteggiato, non solo ritinteggiato, rifatto tutta la facciata dell'asilo Maurizio Farina, era un'opera che si aspettava da tanti anni e siamo riusciti a completare i lavori nell'estate scorsa e quindi adesso ha una facciata e ne rifatto anche i tetti, un ambiente anche questo sicuramente più gradevole, c'è dal punto di vista estetico ma anche dal punto di vista funzionale. Certo, e invece l'ex scuola elementare? No, l'ex scuola elementare è stato un lavoro lungo, difficile, faticoso, un progetto che ha comportato tante discussioni, tanti incontri, che ha portato tanto lavoro, ma finalmente siamo arrivati al termine, abbiamo fatto un concorso di idee, un concorso di idee per decidere cosa fare di quella scuola, un concorso di idee che ha vinto una società di architetti non del territorio ma che si sono dimostrati, giovani architetti, che si sono dimostrati molto bravi. La vecchia scuola elementare, la scuola di Via Roma, non è una scuola, è un edificio anziano ma non vecchio, quindi non ha le caratteristiche di scuola di dover essere conservata per un valore storico, non ha quello. Praticamente non ha più nulla che possa essere considerato a norma, quindi come qualcuno, magari giustamente, perché ognuno può avere le sue idee, aveva detto che questa scuola sarebbe meglio ristrutturarla e farne qualcosa di diverso pur che venga ristrutturata e non abbatterla. Abbiamo fatto dei conti, delle valutazioni, ristrutturarla proprio per il fatto che non ha più nessun tipo di caratteristiche attuali che possono essere considerate valide da qualsiasi punto di vista, quindi nessuna norma avrebbe rispettato. Praticamente avrebbe quasi voler dire quasi abbatterla per poi ricostruirla. Noi abbiamo fatto una scelta diversa, una scelta diversa che va e che è anche diversa da quella che la precedente amministrazione aveva individuato, che era quella di abbatterla per edificare degli alloggi. Mi sembra che in quella zona erano previsti dalla vecchia amministrazione circa 80 alloggi. Noi pensiamo che oggi Rivolo non abbia bisogno di alloggi perché abbiamo anche tanti alloggi sfitti in città, per fortuna non tantissimi, ma un certo numero di alloggi sfitti ci sono e quindi abbiamo pensato di abbatterla e di creare un grande spazio. Un grande spazio che naturalmente andrà ad essere riempito, grazie appunto a questo concorso di idee di questi giovani architetti, diventa un luogo di aggregazione. Noi vorremmo che questo fosse veramente un luogo di aggregazione per i riverolesi, quindi ci sarà una continuazione di un viale alberato che continuerà con il centro della città, un impegno importante perché si affaccia alla chiesa di San Francesco, quindi sicuramente una valenza anche storica e culturale per quanto riguarda l'ambiente che si affaccia sulla chiesa di San Francesco, chiesa importante di Rivarolo e in quell'area verrà inserito un piccolo anfiteatro dove poter fare dei piccoli spettacoli all'aperto, dove ci saranno queste gradinate, dove possono essere anche un modo di aggregazione dove i giovani o meno giovani possono andare a ritrovarsi eccetera. Vogliamo proprio che questo diventi un punto di riferimento per la città ma un punto aperto, un luogo aperto dove ognuno si possa sentire a casa sua in un luogo che era sia una scuola elementare, tant'è che l'abbiamo chiamato spazio elementare. E come avete detto è un po' come restituire quella zona ai cittadini. Esatto, è un po' come restituire quella zona ai cittadini, tra i cittadini che hanno frequentato quel luogo da bambini, da scolari e adesso lo possono rivivere in modo diverso. Tra i vostri punti principali del vostro programma e di quello che avete portato avanti nel vostro mandato, oltre alla salute e all'ambiente e alla sostenibilità anche lo sport, perché comunque lo sport è collegato alla salute. Beh, sport, salute e ambiente sono collegati. Io sono sicuramente un fautore sportivo perché l'ho fatto in gioventù, oggi ahimè un po' meno, però sicuramente credo in lo sport, credo in lo sport come naturalmente come palestra di vita, perché io penso che non esista sport, tutti i tipi di sport che non abbiano una valenza proprio come insegnamento, insegnamento alla fatica, insegnamento all'attenzione, insegnamento alle regole, perché i giovani hanno bisogno di regole e quindi lo sport è uno dei principali modi per imparare le regole, le impari come gioco ma le impari anche in modo diverso, poi lo sport fa bene a tutte le età. Quindi noi abbiamo questo bello, bellissimo centro polisportivo che aveva qualche criticità, naturalmente qualcuna le ha ancora adesso. Abbiamo cercato di sistemare là dove c'erano le criticità, banalmente avevamo la piscina che tra l'altro è una delle poche piscine in zona dell'Alto Canavese che è utilizzata dagli utenti di Rivarolo ma non solo, quindi è una piscina che è utile a buona parte dei cittadini canavesani, aveva delle criticità. L'anno scorso abbiamo sostituito le due caldaie centrali perché c'erano problemi di riscaldamento, abbiamo fatto un importante lavoro di sostituzione di tutto per quanto riguarda l'illuminazione del palazzetto dello sport, abbiamo quasi finito di sistemare quel campo di calcio che non era utilizzato, che era stato costruito e poi abbandonato a se stesso, stiamo facendo dei lavori anche per quanto riguarda il campo di calcio insintetico e quindi devo dire che abbiamo dato attenzione al centro polisportivo perché riteniamo che questo sia il vero luogo dello sport rivarolese, abbiamo bisogno anche, ha bisogno, avrebbe bisogno ma sicuramente cercheremo di trovare le risorse ancora per la pista di atletica, anche questa una delle poche piste di atletica in canavese, ha bisogno di essere un attimino rimessa in ordine. Anche perché la città ha diverse associazioni sportive e arrivano anche fuori in ultima. È una città ricchissima di associazioni sportive, di associazioni sportive anche di grandi livello, sia per sport all'esterno, sia che sport all'interno, pallavolo piuttosto che pallacanestro, fortissimo il gruppo di karate eccetera. Quindi devo dire che abbiamo le valenze, abbiamo i numeri perché abbiamo tanti ragazzi che fanno sport, abbiamo dei dirigenti, dei maestri, degli allenatori bravi e quindi devono per forza di cose avere anche le strutture per sopportare la loro capacità e la loro bravura. Certo. E sport, cultura, non soltanto sport ma anche progetti culturali, sto facendo un po' i collegamenti. Noi abbiamo un assessorato della cultura che è giovane ma molto brava, Costanza Contacanova, che ha lavorato in questi cinque anni in sinergia, naturalmente con il suo assessorato, ma in sinergia anche in modo particolare con la biblioteca. La biblioteca è una fucina, una macchina di idee e con la biblioteca ci sono fatti tanti progetti, naturalmente culturali che possono essere gli eventi di presentazione libraria piuttosto che eventi sia in sala consigliare, sia in biblioteca, sia d'estate, questi eventi all'aperto che hanno avuto un buon successo, tra l'altro andando a riscoprire anche i luoghi magari meno conosciuti della città, quindi abbiamo fatto degli eventi culturali anche in questi luoghi. La biblioteca fa cultura, ma la fa cultura in modo particolare, la fa rivolta ai cittadini meno giovani ma anche in modo particolare ai bambini, ultimamente quello del ti massaggio con le fiabe, queste piccole cose che però hanno un significato profondo. Collegato ancora allo sport, alla salute, abbiamo un bel progetto, questo progetto è nato grazie alla sinergia tra l'amministrazione comunale nostra ma poi dopo successivamente anche tantissime amministrazioni comunali che hanno avuto sinergia con l'astorino 4 che sono i gruppi del cammino, gruppi del cammino dove ci ritrovano tanti cittadini per camminare insieme, camminare è un modo sicuramente per fare del movimento, quindi fare della prevenzione alla salute ma anche un modo per socializzare. Io sono stato ad alcune di queste passeggiate e devo dire che c'è veramente un bel ambiente, una bella armonia e lì camminando e passeggiando vengono anche fuori delle idee per fare nuovi progetti e da cosa nasce cosa, devo dire che veramente è uno dei sistemi che l'ASL ha individuato, che le amministrazioni hanno sposato ma che sta veramente dando i suoi frutti con buoni risultati. E invece tra i vari obiettivi che si era prefissato l'amministrazione comunale era quella di rifare il piano regolatore e adesso è addirittura in arrivo. Sì, il piano regolatore è stato approvato la variante generale, il progetto della variante generale, la proposta definitiva è stata approvata nell'ultimo consiglio comunale di qualche giorno fa, di una settimana fa, è stato questo anche un lavoro molto lungo, molto delicato, molto articolato, che ha impegnato tutti gli uffici, in modo particolare l'ufficio urbanistica naturalmente, che ha impegnato i progettisti, lo studio dell'architetto di Paglia che hanno lavorato per tanto tempo a questo progetto, ha impegnato il nostro assessore di Emoz all'urbanistica, ma ha impegnato tutta l'amministrazione, sia dal punto di vista dei consiglieri assessori, sia dal punto di vista di tutti gli uffici, perché tutti hanno avuto un qualcosa da dire, un lavoro che è nato a monte con il coinvolgimento dei cittadini, il coinvolgimento dei ragazzi, il coinvolgimento delle scuole per portare delle idee, quando si sono trovate, naturalmente ci sono state tante riunioni, tante commissioni con i gruppi di minoranza, eccetera, quando le idee hanno avuto, quando tutte queste idee sono state raccolte, sono state naturalmente rielaborate e poi si è iniziato alla costruzione di questo piano regolatore. Io penso che sia stato, tutto è migliorabile e tutto è modificabile, però penso che alla fine sia stato fatto un bel lavoro, dove abbiamo presentato ai cittadini, ai consiglieri, naturalmente agli organi di stampa, un bel progetto che è stato approvato, che è un pochino quello che sarà la città nei prossimi 15-20 anni, perché un piano regolatore è un piano regolatore che non guarda nell'immediato, ma guarda sicuramente al futuro. E quindi io penso che il futuro di Rivarolo, anche grazie a questo piano regolatore, possa essere un buon futuro con una città che sarà ancora sempre di più a misura d'uomo, con una sostenibilità sicuramente importante e con una riqualificazione della città che farà del bene, perché io penso che sia un piano regolatore che mette in mostra molto di più, grazie a tante riqualificazioni, in modo particolare noi puntiamo alla riqualificazione del centro storico, quindi farà la città più bella e una città più bella è sicuramente più piacevole da parte da chi la vive, ma anche bella chi da fuori viene, la vede, quindi è anche un'attrattiva dal punto di vista turistico, se non culturale, perché abbiamo anche delle grandi attrattive culturali che possono essere il Castello Magra, piuttosto che tanti altri, c'è Villa Vallero o tanti altri luoghi che meritano di essere visti e visitati per la loro storia e per la loro cultura. Rivalolo è una città, come appena detto, molto bella, grande, centrale, di rilievo, fare il sindaco di una città così vuol dire comunque porre anche attenzione per l'intero territorio, non soltanto per la città? Ma certo, fare il sindaco di una città è impegnativo e i cinque anni sono stati veramente impegnativi. Sì, Rivalolo è fulcro, punto di riferimento per tutti i comuni della zona, tant'è che quando è stata, quattro anni fa, ridefinita la città metropolitana di Torino per la trasformazione da provincia a città metropolitana, sono state disegnate le zone omogenee e la zona omogenea che fa riferimento a Rivalolo, con Rivalolo capofila perché è il comune più grande e questa zona si chiama Canavese Occidentale, fa riferimento a ben 46 comuni, quindi sono 46 comuni che hanno riferimento, fanno come riferimento la città di Rivalolo e quindi naturalmente l'impegno di un sindaco della città di Rivalolo è anche di guardare a fare sinergia con gli altri comuni. Devo dire che in questi anni c'è stata un'ottima collaborazione con le amministrazioni degli altri comuni, con i sindaci dei comuni vicini e lontani perché Ceresole è lontana anche se fa parte della Ceresole e quindi trovare delle sinergie tra comuni montani, comuni di pianura eccetera non è stato facile ma devo dire che proprio grazie a questa collaborazione non ci sono mai stati problemi e tutti quanti abbiamo cercato di far sì che questa opportunità che la città metropolitana, che non ne dà tante opportunità, ma di sfruttare questa opportunità quella di far capire che la nostra zona omogenea era compatta e naturalmente il lavoro fatto non è un lavoro finito, un lavoro che deve essere continuato perché vogliamo ancora di più dare più forza a questa zona omogenea perché solo così facendo possiamo avere, contare un pochino di più in futuro sia all'interno della città metropolitana sia all'interno di un contesto più grande quindi noi crediamo meno, io personalmente ma penso che anche tanti sindaci credo se non tutti i sindaci del nostro territorio credono a questo progetto e credono che lavorando insieme si possono ottenere dei buoni risultati. Di sinergie, di fare rete se ne parla sempre da tanto tempo però poi non è facile perché tante teste, tante idee e diventa veramente complicato. Quindi c'è questo ormai sentore che se non si lavora in rete, se non si lavora assieme, se non si fa sinergia non si ottengono risultati. Un ultimo accenno ai problemi sociali perché comunque Rivarolo essendo grande... Beh Rivarolo essendo grande naturalmente i problemi sociali se ne sono, problemi cittadini che hanno qualche più o meno grande, più o meno piccolo problema però da sempre, quindi non solo da quando c'è la mia amministrazione ma già precedentemente, Rivarolo è sempre stata attenta a quelli che sono i problemi dei più deboli. Io devo dire che anche con la mia amministrazione è stata un'attenzione particolare ai più deboli grazie anche alla collaborazione, alla sinergia con le tante associazioni che ci sono a Rivarolo ma in modo che si occupano appunto di queste persone, di queste categorie ma in modo particolare grazie al CIS38 che è l'ente associo assistenziale del nostro territorio che lavorando bene in sinergia con i comuni, in modo particolare con il mio comune, fa sì che non si lasci indietro nessuno. Io ho l'obiettivo della mia amministrazione e penso che sia un obiettivo assolutamente raggiunto, è quello di non lasciare indietro nessuno e che tutti abbiano pari dignità. Bene, io ringrazio il sindaco Alberto Ostani per questa bella cacchierata e ringrazio voi spettatori per essere stati con noi e continuate a seguirci. Grazie.